Le stelle di Azus Il corso della mattinata non riuscirete a concludere molto sul lavoro e questo può attirarvi addosso qualche critica non certo piacevole. In serata consolatevi con l'amore sempre pronto a curare le vostre ferite. Gemelli, con la luna in posizione vantaggiosa potrete analizzare con chiarezza alcune questioni che riguardano il lavoro e la famiglia. In amore siete superficiali. Avete voglia di giocare e divertirvi, per questo avete bisogno di tanto tempo libero. Cancro, sfruttate la luna positiva per incontrare persone importanti per il vostro lavoro. A darvi una mano ci sarà anche una buona dose di fortuna che non guasta mai. In serata l'amore vi farà una bella sorpresa risvegliando i vostri sensi. Leone, la luna nel vostro segno vi permetterà di affrontare gli impegni professionali con grande entusiasmo. Potrete ottenere ciò che volete con una certa facilità. Il periodo rimane comunque delicato, anche se molto presto rinascerete. Vergine, sarete un po' confusionari sul lavoro e ritroverete il bandolo della matassa solo grazie all'intervento di un amico. In amore basterebbe essere meno pignoli. Non trascurate i rapporti sociali che possono rappresentare un sostegno importantissimo. Bilancia. Prendete iniziative decise. Sotto questa luna è possibile parlare di denaro, chiudere un accordo vantaggioso oppure ottenere l'aiuto di una persona influente. Cercate di svagarvi il più possibile. In amore c'è bisogno di allegria e spensieratezza. Scorpione. Quando vi fate prendere dall'ansia cominciate a vedere tutto nero, rischiando di compromettere tutto il lavoro degli ultimi giorni. Tenete a freno la lingua. L'amore ancora non riesce ad assicurarvi e rischiate di diventare molto gelosi. Sagittario. Una vacanza sarebbe l'ideale, ma anche chi deve continuare a seguire da vicino il proprio lavoro otterrà ottimi risultati. In amore dovete rivelare un sentimento. Se volete fare una nuova esperienza personale o professionale è la giornata giusta. Capricorno. In famiglia vivete sempre sotto pressione per via delle responsabilità che siete costretti a prendervi, ma dovete convincervi che non è possibile defilarsi. Ci sono molte persone che tentano di ostacolare i vostri piani. Dovete combattere. Acquario. L'avvio di giornata sarà in salita a causa della luna difficile. Non fate scenate sul lavoro, anche se le cose non andranno esattamente come avevate previsto. Anche in amore rischiate di diventare polemici. Risparmiatevi una critica velenosa. Pesci. Avete tanto entusiasmo e avete anche le forze per realizzare quello che avete in mente. La luna però rallenterà i vostri ritmi a causa di alcuni imprevisti. Quando potete staccare la spina dal lavoro, riprendete quota. L'amore vi esalta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna. Le stelle di Azus Le stelle di Azus